Ente commerciale filantropico senza scopro di lucro, finanziariamente indipendente e con l'obiettivo di difendere attraverso progetti mirati la biodiversità. È la definizione che si è data alla Fondazione Capellino e, nell'ambito della Cesar, è soprattutto un esempio originale di realtà economica che vincola i profitti di impresa alla copoltura finanziaria di iniziative di sostenibilità. Alla Fondazione, nel giugno del 2019, è stato infatti conferito con una donazione l'intero asset di Almonature, azienda in marchio di alimenti per animali. L'attività commerciale è diventata così il motore che sostiene la fattibilità economica di iniziative di biodiversità. Pier Giovanni Capellino, presidente della Fondazione, spiega per il Salone della Cesar e dell'innovazione sociale il senso della sua iniziativa. Noi sostanzialmente abbiamo introdotto un nuovo modello di produrre che mantiene l'originale nucleo, in questo caso Almonature, ma i profitti che questa realtà produce sono profitti che non sono destinati, o meglio, non sono solo destinati alla continuità di Almonature, ma sono destinati ad una progettualità nuova che è la progettualità dei nostri progetti che mirano a tener conto della biodiversità in quello che noi andremo ad intraprendere. L'impresa si iscrive nella continuità col passato, ma il denaro che l'impresa produce va ad alimentare progetti che guardano al futuro. Dietro una scelta così radicale c'è un personale senso del limite e una consapevolezza del senso di responsabilità verso le risorse e i beni comuni. Ma Capellino non vuole definirsi un modello. Si può ragionare così, sempre in maniera molto pragmatica, ma chi ha già abbastanza può evitare di continuare ad accumulare, perché non serve a nulla sostanzialmente. Sì, serve a dare un'illusione di potere, ma in realtà non restituisce nulla di veramente concreto. Quindi io penso che siano dei percorsi che debbano essere fatti individualmente, queste scelte non possano essere proposte come modello da imitare. Da imitare se si vuole, ma penso che la presa di consapevolezza consiste nel dirsi che non possiamo continuare a sfruttare le risorse naturali, così come oggi facciamo, per creare dei posti di lavoro, ma questa è la scusa, perché in realtà noi stiamo verticalizzando la ricchezza più che creare dei posti di lavoro. Da Humans and Wildlife, che promuove l'intangibilità degli abitati naturali e dei grandi mammiferi minacciati dall'espansione dell'attività umane, ha Regenerate in Villa Fortuna, dove su un'area di 20 ettari nel Monferrato si sperimenta un nuovo modello di agricoltura sostenibile e non inquinante, ma economicamente competitiva. Sono molteplici i progetti sui quali la fondazione si è messa al lavoro. Noi abbiamo un progetto per un'agricoltura diversa, senza l'utilizzo di concimi e fertilizzanti chimici, abbiamo un progetto per la salvaguardia degli habitat selvatici e abbiamo un progetto che vuole introdurre uno standard di misura che misuri non già la compatibilità con la sostenibilità, ma l'impatto che le attività umane hanno sulla biodiversità. Tra le altre iniziative portate avanti dalla fondazione, anche il progetto europeo Companion Animal for Life. Dedicato in particolare a cane e gatti, il progetto ha tre finalità. Collegare ogni cane e gatto alla responsabilità di un umano, chiudere i rifugi o almeno renderli meri luoghi di breve transito per la gestione dell'emergenza e eliminare la piaga degli abbandoni e del randaggismo. Una sola base di scelte personali e imprenditoriali tanto radicali. Con quale prospettiva Capellino guarda al futuro? Non sono né ottimista né pessimista. Sono passato all'azione. Penso, ma spero di no, che probabilmente si arriverà ad un reale cambiamento attraverso purtroppo una catastrofe che a quel punto indurrà il cambiamento di fatto perché renderà caduchi i modelli attuali. Grazie per la visione!